allora in questi ultimi giorni ne sono successe dico se stasera si gioca a minan frosinone partita molto ma molto importante per la squadra rossonera perché serve per forza la vittoria e continuare a recuperare punti alle prime in classifica perché il distacco inizia a essere un po notevole i tanti punti persi nelle ultime giornate sono possono risultare decisivi a fine stagione ieri sono arrivate le dichiazioni di paolo maldini dichiazioni che fatte oggi quindi in questo periodo dove il milan ma sta andando male fanno un fanno più risalto probabilmente un mese fa un mese e mezzo fa quando i rossoneri erano i primi grassivi che sarebbero state prese diversamente dalla tifosseria rossoniera da tutto l'ambiente ovviamente quello che maldini ha detto già conoscenza di tutti non ha detto niente di nuovo se i rapporti con cardinale redbio dal primo giorno non sono stati idiliaci e quindi l'allontanamento quindi la separazione sarebbe stata inevitabile arrivato dopo un anno poteva arrivare anche dopo tre mesi due anni ma prima o poi sarebbe arrivato tutto quello che ha detto un'intervista uscita ieri sono tutte cose che già si sapevano ora la cosa importante è che il milan torna a vincere stasera contro il fosinone come non interessa ma servono i tre punti negli ultimi allenamenti più li ha approvato teo ornandez centrale sappiamo che ciao è infortunato ne avrà lunga probabilmente rientrerà inizio 2024 quindi lui ha provato teo centrale le bartesaghi a sinistra però c'è sempre la soluzione simici il giovane rosso nero dalla primavera che è stato convocato in prima squadra e potrebbe anche giocare lui al fianco di tomore con risultati portando teo nandez nel suo ruolo naturale quindi sulla fascia sinistra e niente da aggiungere il milan ovviamente in attacco non avrà ancora girù perché sconterà la seconda risqualifica rientrerà sabato a bergamo contro l'atalanta e in attacco ci sarà ancora jovic quindi con ciocuvezze a destra e pulisic a sinistra per il resto dico solo una cosa leggo che molti sperano che il milan stasera perde col fosinone perché così più li venga esonerato il milan si segue sempre nel bene e nel male non si spera mai che perde per mandar via un allenatore allenatori calciatori presidenti passano il milan resta quindi sempre per la maglia mai ti fare contro almeno questo è il mio pensiero poi ognuno è libero di fare quello che vuole sempre forza milano